L'Immacolata è la famiglia, la nonna, il nonno, la mamma che ti accompagnava in chiesa e andava a vedere questi carri e quindi io sono nato con questa tradizione. Nelle parole di Raffaele De Maio, storico artista torrese, il rapporto di amore che lega tutti i fedeli di Torre del Greco all'Immacolata. In un anno atipico e drammatico per Torre del Greco, dove la pandemia ha fermato la tradizionale processione dell'8 dicembre, il parroco di Santa Croce, Don Gesùel Lombardo, ha deciso di far realizzare comunque un bozzetto del carro votivo al maestro De Maio. Tale disegno verrà esposto nella Basilica e potrà essere ammirato ai fedeli fino a gennaio. Abbiamo incontrato il professore De Maio, scenografo negli anni d'oro della RAI, nel suo studio per chiedergli il significato della sua ultima opera e come viverà l'interruzione della storica tradizione torrese. Quanti carriere l'Immacolata ha progettato e ideato? Io personalmente ne ho fatto uno nel 90, ma prima di me l'ha fatto mio padre, legge un bozzetto là sopra. Nel 1933 io non era ancora nato e quindi ho porto dentro questa tradizione della festa. I carri li ho visti quasi tutti quanti, li ho visti costruire volta per volta con gli amici sorrentino, papà e figlio sorrentino e gli apparatori, i famosi apparatori di torre, una tradizione che parte dal Settecento, la famiglia sorrentina. Poi ultimamente è venuto a trovarmi Don Giosuè, il padre Lombardo e il padre Giandre Rossi. Dicevo che quest'anno dovete fare il carro, così dopo 30 anni io faccio ancora un'altra volta un carro che non si farà adesso. Don Giosuè ha voluto questo bozzetto, l'ha messo in posto in chiesa dicendo che l'anno prossimo lo rifarà. Questo è il mio secondo carro diciamo, però i carri sono passati tutto sotto diciamo la mia vista, perché io frequentavo sempre Santa Croce e dove si faceva il carro, perché i carri si facevano giù agli Zoccolanti, il convento degli Zoccolanti, lì l'apparatore costruivo i carri. Come vive da torrese e da fedele questa immacolata tipica? La vivo con gran dolore, perché la festa dell'immacolata, come dicevo prima, ci appartiene come fatto proprio di famiglia, la Madonna e nostra madre, ma non solamente sotto l'aspetto spirituale, proprio perché era presente tutte le volte che nostra madre ci accompagnava. Ora non vederla per in strada, non vedere quella gente che fa con tanti sforzi star sotto al carro, lì a portarlo con tanto amore, è veramente un grande dolore. Come nasce l'ispirazione per creare un'opera tanto importante per la città come il carro? Nasce sempre con un'unica cosa che ho detto prima, l'amore dell'immacolata. Bisogna tenere presente la tecnica che appartiene alla tradizione, perché la tradizione non è solamente la festa, la tradizione è anche la tecnica per costruire questi apparati delle feste. Una tecnica che non è solamente una tecnica che si impara alla scuola, ma si impara proprio attraverso il guardare gli altri che l'hanno fatto prima di te. In particolare questo bozzetto che significato ha, visto che i carri hanno sempre un significato per la città? I carri sono legati maggiormente alla litania lauretana, no? Maria di Grazia prega per noi, la famosa litania, Maria Santissima dell'Universo prega per noi. c'è tutti questi titoli che si danno alla Madonna. Quest'anno io ho tolto il titolo da varie litanie, di questa litania lauretana e gli ho dato il titolo originale che spetta la Madonna, Ave o Maria. Il saluto alla Madonna. Il carro è il saluto alla Madonna. Ave o Maria, in questo momento così difficile che siamo attraversando. Questo saluto alla Madonna, l'Ave o Maria, l'ho sposato con due momenti meravigliosi. Il chiostro di Santa Chiara, vedi che è tutta la base, è il chiostro dove le Ave Maria vengono dette tutti i giorni, dalle suore, da tutti quelli che vanno a pregare in questo chiostro. Quindi ecco l'idea del chiostro, a salutare la Madonna. E poi c'è i due riquadri, perché i pannelli centrali della panchina di Santa Chiara, perché quella è la panchina di Santa Chiara, sono dedicati al Santo. Uno è quando il Beato Romano costruisce la Chiesa, l'altro lato invece è dedicato alla predicazione che il Santo faceva ai marinai di Torre. La predicazione è detta a Shavaga, perché lui così diceva, io vado a Shavaga, vado a pregare, vado a Shavaga, a Shavaga. E quando i pescatori buttano le reti in mani per pigliare i pesci, lui andava a pigliare i cristiani per il torre direi, vado a Shavaga, diceva.